Hai subito un danno in meriti di essere risarcito? Affidati a noi di 2M Milano 1, zero anticipi sull'intero percorso di gestione e assistenza sanitaria, sulla riparazione dei veicoli presso carrozzerie convenzionate e sulla gestione amministrativa e legale dei sinistri. Contattaci e tutelati a 360 gradi con i professionisti del settore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.